Una strada dove il pubblico transito è interrotto dai rifiuti, ingombranti, sfalci ma anche lastre di Eternit. L'enorme discarica di via Ricadi a Centrogiano è rilevata addirittura da Google Maps da almeno tre anni. Cosa che noi abbiamo fatto presente al municipio in decine di richieste, l'ultima di settembre scorso. Siamo in piena pandemia, questa rappresenta una crisi sanitaria, un problema di igiene pubblico, un problema di pericolo di incendi perché abbiamo il fosso di Ponte Larone qui accanto che tutte le stati puntualmente prende fuoco. Chiediamo null'altro che la rimozione, il ripristino dello stato della pulizia del posto e magari l'installazione di una telecamera visto che ci troviamo accanto di fronte ad un sito industriale molto importante della CEA che è l'impianto di sollevamento di Centrogiano che garantisce il fatto che il nostro quartiere non venga sommerso dalle acque scure. La maggioranza della colpa ce l'hanno i cittadini cosiddetti incivili, per me sono delinquenti quelli che fanno queste cose. L'altro pezzo di responsabilità enorme ce l'ha l'Ama stessa che è un'azienda che dimostra che non ha una grande capacità su questi argomenti. Terzo le istituzioni, quando tu fai la denuncia alla prefettura, fai la denuncia ai carabinieri, lo fai presente in circoscrizione o perlomeno al municipio decimo, lo fai presente privatamente anche a tutti gli assessori che fanno parte della maggioranza e della minoranza. Non c'è nessuno che si è peritato di venire nemmeno a vedere. Non posso fare nulla perché io abito qui e tante volte vedi tanti camion che passano se fermano. Io sono una donna, mi fermo in mezzo alla strada, me li guardo e loro girano, ma come faccio io a girare questo posto? E poi loro qua dietro buttano le cose, mi fate ridere, dice prendi la targa, fai i video e se poi ti fanno male a una figlia di 12 anni, di 13 anni, ti bucano le ruote, ti mandano a foco una macchina. Noi qui camminiamo, veniamo tutti i giorni perché poi abbiamo i cani, quindi li portiamo a spasso. Però diventa pure pericoloso passare qui perché comunque non ci dimentichiamo, andiamo verso l'estate, quindi sarà pure un ritrovo di animali e di quant'altro. E poi è pericolo incendi, comunque qui in mezzo ci sarà anche materiale inquinante, di conseguenza se si crea un incendio respireremo pure aria insana. Credo che sia semplice oggi come oggi avere una telecamera e trovare la... Ma è la cosa più importante che quando uno si becca deve prendere una bella molta. Non fare 450 o 530 euro di molta a un poraccio che magari ha 80 cm dal tavolo invece di metterlo a un metro. Qui fate una bella molta anche dei 2.000 euro. La situazione è evidentemente insostenibile, le amministrazioni a tutti i livelli ne sono al corrente, ma mancano d'iniziativa anche al cospetto di un serio rischio per i cittadini. Grazie a tutti. Grazie a tutti.